buongiorno vorrei che questo spazio fosse come un filo che lega me e vesna shepanovic che con me conduce il gruppo di lettura scrittrici sulle sponde del mediterraneo alle persone che ci hanno seguito fino ad ora per continuare in qualche modo a viaggiare insieme e sono contenta che questa occasione permetta anche ad altri lettori e lettrici di aggiungersi. Ho pensato di leggervi due racconti di due scrittrici, ho trovato questi racconti in una raccolta di cui abbiamo già letto alcuni racconti nel nostro gruppo, la raccolta si intitola scrittori arabi del novecento ed è pubblicata dai Tascabili Bompiani a cura di Isabella camera d'afflitto. Il primo racconto è di una scrittrice che si chiama Gaglia Cabani, è una scrittrice e una giornalista nata ad Aleppo in Siria nel 1953 e che ha vissuto a lungo in Kuwait collaborando con uno dei principali giornali del Kuwait. Attualmente vive a Londra dopo aver vissuto per molto tempo a Damasco. In questo racconto che è scritto nel 1990 ci fa rivivere le angosce esistenziali e politiche degli abitanti di un'imprecisata metropoli orientale. Gaglia Cabani ha ricevuto per i suoi racconti nel 2008 l'International Prize della letteratura araba. Quel che disse l'Annunciatore All'improvviso regnò il silenzio. Sembrava che l'auto camminasse senza viaggiatori e senza autista. Solo la sua voce si era impadronita del luogo e si sentiva oltre i limiti. Sembrava la voce di un maestro burbero entrato in una classe chiassosa interrompendo tranquille chiacchierate per annunciare segreti spaventosi. Qui l'emittente poi lesse i titoli del giornale radio lanciando l'esca per attirare l'attenzione di quei cinque nell'automobile. Cinque estranei che avevano buttato il loro coraggio dai finestrini del terrore e stavano ascoltando aspettando l'edizione dettagliata. Dieci minuti di terrore. Il taxi si era fermato per prendere due ragazze in una strada affollata di negozi. Erano entrate dalla portiera posteriore destra e dalla stanchezza si erano accacciate sul sedile. L'auto stava per muoversi quando il quarto viaggiatore l'aveva fermata e aveva chiesto «Andate verso…» L'autista guardando le ragazze gli rispose «Permettete?» Una di loro guardò il viaggiatore seduto davanti e rispose «Non si chiama nemmeno più taxi, andiamo in tre direzioni diverse!» Il quarto passeggero supplicò «È un'ora che aspetto!» Si scambiarono delle occhiate e poi una aggiunse «Prego!» L'uomo aprì la portiera e cercò di infilarsi dietro sul sedile dove stavano le ragazze con i loro acquisti. L'auto si mosse e cominciarono a parlare del più e del meno sul problema dei taxi in città. Ma ecco che la discussione cominciò a frantumarsi e ad andare in altre direzioni. L'autista e il viaggiatore davanti si erano inoltrati in un discorso sui problemi delle macchine, sui guasti che non finivano mai, sui costi. Il viaggiatore di dietro ogni tanto si intrometteva dicendo la sua, mentre le ragazze erano immerse in chiacchiere sussurrate. Sembrava che una di loro avesse un problema personale. Le voci comunque non si intrecciavano e nessuno delle cinque persone sembrava disturbata dagli altri, anche perché la voce della cantante Um Kulthum faceva da sottofondo a queste chiacchiere pagate. Um Kulthum è una delle più note e più seguite cantanti del mondo arabo e una cantante egiziana. Tutto questo succedeva prima che l'annunciatore della radio si lanciasse a informare sugli avvenimenti importanti che accadevano nei paesi. Arresti politici a tappeto, Amnesty International aveva presentato una protesta sul fermo di anni senza giudizio di diverse persone. Forse questo silenzio può non sembrare motivato, cioè quando i viaggiatori e l'autista si ammutolirono proprio nel momento in cui l'annunciatore si mise a parlare da un paese lontano. Si può cercare di ipotizzare una scena convincente per questo silenzio. L'autista ebbe qualche esitazione, non sapeva se cambiare o meno la stazione radio. Da molti anni ormai aveva perso la capacità di prevedere. Se avesse cambiato la stazione radio insultando e apostrofando la radio bugiarda e menzoniera? Ma sapeva bene che l'annunciatore straniero stava rivelando verità nascoste. Se invece lo avesse lasciato continuare, uno dei viaggiatori lo avrebbe potuto denunciare accusandolo di contribuire a divulgare notizie false e tendenziose sulla situazione del paese. I quattro viaggiatori girarono la testa verso i finestrini, rimpiangendo di non trovarsi da qualunque altra parte, lontano da quella situazione, al riparo da qualsiasi reazione che si potesse intravedere nello specchietto dell'autista o negli occhi degli altri compagni del taxi. Anche le ragazze avevano distosto gli sguardi una dall'altra per paura di tradirsi. Erano occhi abituati a leggere nel profondo di ciascuna di loro. Il giovane nel sedile posteriore si era ricordato di suo fratello, sparito, che da anni si trovava in un posto. Per allentare la tensione si mise le mani in tasca e strinse qualcosa. Bene. Non vi sembra che questo evento sia sufficiente per un racconto? Mi riferisco al fatto che cinque persone estrane si siano trovate insieme in uno stesso taxi e all'improvviso si siano scambiate accuse silenziose, come se fossero tutti delatori che scrivono rapporti per i servizi segreti. Supposizioni basate soltanto sulla paura. E tutto questo soltanto perché la voce di un annunciatore e di un emittente lontana si era infiltrata tra loro, facendo dimenticare ogni preoccupazione quotidiana e scatenando le paure più profonde. Questo avvenimento non poteva essere preso come esempio da citare in un articolo politico di accusa verso un certo regime. Si sarebbe scritto quello che era successo in un paese dove in uno stesso taxi si trovavano cinque persone, quattro viaggiatori e un autista e tutti avevano buttato il loro coraggio dai finestrini della macchina. Quei viaggiatori si erano chiusi in se stessi come conchiglie in un posto lontano nel cuore per mettersi in salvo da quella voce di annunciatore radio di un paese lontano, voce che si proiettava su di loro e che nello stesso tempo era disturbata dai battiti di tamburo provenienti da quello stesso piccolo posto. Kuwait 1990 Il secondo racconto che ho pensato di leggervi è di una scrittrice che si chiama Basma Nasur ed è una scrittrice giordana della nuova generazione e i suoi racconti sono apparsi in numerose riviste letterarie arabe. Questo racconto pubblicato a Beirut è del 1991 e si intitola L'incontro traffico, rumore, automobili imprudenti, un vigile allerta e una strada intasata. Le auto rallentano quando il semaforo diventò rosso. Scusate, le auto rallentarono quando il semaforo diventò rosso. Lei schiacciò il piede sul freno e l'auto si arrestò, ma il rumore del motore fastidioso come il russare di un marito continuava. Lei odiava fermarsi. Le sarebbe piaciuto che tutti i semafori in città si rompessero in modo da non essere più costretta a farlo. Quando con la sua macchinetta si infilava in mezzo a quelle auto enormi si sentiva soffocare. Le sembrava che tutti la guardassero con compassione. Che stupidi! Non sanno quanto l'ho sognata questa macchina, quanto ho dovuto risparmiare, quante cambiare ho dovuto pagare e quante carte ho dovuto far timbrare per riuscire a pagarla. Ma anche l'orgoglio che aveva provato quando l'aveva comprata non era durato a lungo, davanti allo splendore delle altre vetture. E ogni volta che il rosso la costringeva a frenare, veniva assalita da una sensazione di smarrimento. Era un attimo che sembrava un'eternità. A un tratto ebbe l'impressione che degli occhi fissi su di lei la stessero penetrando, guardandola con curiosità. Senza farci caso si voltò automaticamente ed ecco che lo vide comodamente seduto al fianco dell'autista, in una potente auto nera, nuova di zecca e dalla forma aerodinamica. Fu assalita da un'improvvisa e insistente sensazione. Quel volto lei lo conosceva bene, quei lineamenti estremamente familiari, quasi intimi. E anche quegli occhi che la stavano osservando e si stavano chiedendo la stessa cosa, la stessa insistente sensazione di familiarità. D'un tratto, come chi senza accorgersene sia stato punto da qualcosa, lei gridò, «Lit? Sì, è lit!» e i suoi denti bianchi splendettero in un sorriso affettuoso. Anche lui probabilmente se ne era ricordato nello stesso istante in cui lei, rovistando negli anfratti della memoria, aveva riportato a galla l'immagine completa. Il caso, come può essere strano, è questa scalmanata ribelle che passa il tempo a raccogliere i frammenti di attimi passati. L'It era stato parte della sua infanzia, della sua giovinezza, e in un istante breve, come uno sguardo furtivo, le ritornò alla mente quando lui, con i capelli fluenti che la facevano sentire ancora più imbarazzata, gli occhi color nocciola, che tante volte l'avevano abbracciata, se ne stava lì, nel vicolo. Che tristezza aveva provato quando lui aveva lasciato i banchi di scuola per aiutare il padre nella gestione del forno. E poi quei racconti divertenti sulla madre e sull'altra moglie del padre, il loro litigio. Si ricordò ancora di quando lui le aveva strappato il diploma, prima ancora che lei avesse il tempo di dare la notizia della sua promozione alla famiglia. Quando lei gli aveva chiesto perché lo aveva fatto, lui le aveva detto «ti amo, stupida». E i sogni dei compagni scritti sulle mura di quelle case antiche. Un giorno Isa disse «diventerò capitano di una nave, i mari del mondo mi aspettano». Hamad, invece, mentre scriveva sul muro il nome di Muna, disse che l'avrebbe sposata malgrado tutti. Walid disegnò un aereo. Con quello sarebbe andato in America, disse. Sarebbe diventato ricco e poi sarebbe tornato. «Diventerò una scrittrice famosa», aveva scritto lei, «mentre tu marcirai in uno stupido forno. Ti sposerai due donne e passerai la vita a cercare di mettere pace tra di loro. Scemo! La vita è molto più di questo». Quando lui lasciò il vicolo con la famiglia, lei piansi a lungo. Lui scrisse il suo nome su un muro e le disse «non ti dimenticherò finché vivrò». Ma la lontananza aveva finito per inghiottire i ricordi del primo amore. Chissà se aveva saputo. Issa era morto annegato un mese prima di laurearsi in scienze nautiche. Walid era stato ghermito dagli artigli dell'esilio e non era più tornato. Ahmad se n'era andato da questo mondo, lasciando un figlio che gli somigliava in modo doloroso. E quanto a lei, era finita dietro a una macchina da scrivere in una grande società. Litt le fece segno di abbassare il finestrino. Lei obbedì. Ma non appena scattò il verde si sentì il frastuono dei clacson delle altre auto. Non ebbero il tempo di scambiarsi nemmeno una parola. Lui le passò un biglietto da visita e l'autista proseguì verso un'altra direzione. Lei si rimise in moto, diretta al suo ufficio. Osservò a lungo il biglietto con le lettere dorate «Litt Arzani» e poi il nome della fabbrica e della pasticceria di cui era proprietario, il numero di telefono di casa, della fabbrica, dell'auto e dell'ufficio, il numero del fax e del telex. Esitò parecchio prima di tendere la mano per comporre il numero. Le giunse una voce femminile estremamente dolce. «I signor affascinante come lo ricordavo». Lui l'aveva riportata indietro a quei giorni meravigliosi, anche se i sogni avevano ucciso tutti i loro compagni, ma si accontentò di dire «Richiamerò di nuovo». Solo. Che non lo fece. Spero che abbiate trovato qualcosa di interessante in questi due racconti che vi ho proposto. vi mando un caro saluto e un augurio di buone letture in questo periodo in casa.